Vogliamo leggere questa mattina Efesini capitolo 1, Efesini capitolo 1, Efesini capitolo 1, leggerò dal versetto 7 al versetto 12, Efesini 1 dal versetto 7 al versetto 12. Paolo scrive in lui, Secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé. Per realizzarlo quando i tempi fossero compiuti, esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra. In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa, secondo la decisione della propria volontà, per essere all'ode della sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. L'Apostolo Paolo in questo paragrafo dal versetto 13, dal versetto 3 al versetto 14, loda Dio, adora il Signore a motivo della grazia di Dio, a motivo dell'immensa ricchezza della grazia di Dio. La prima cosa che ha affermato l'Apostolo Paolo è questa. I credenti sono benedetti in Cristo. Benedetti in Cristo. Ecco cosa significa essere salvati per grazia. Benedetti in Cristo. In virtù di Cristo. Ma poi, più specificamente, Paolo ci ha mostrato che i credenti sono eletti in Cristo, scelti in Cristo. E terza verità che abbiamo considerato domenica scorsa è che i credenti sono redenti in Cristo. Quindi benedetti in Cristo, eletti in Cristo e redenti in Cristo. Questa benedizione spirituale che abbiamo ricevuto in virtù di Cristo è, Paolo, parlando della redenzione, afferma tre verità importanti che ci mostrano in cosa consiste la grazia di Dio. Tre verità strettamente connesse con la redenzione in Cristo. Con la nostra redenzione in Cristo. La prima verità è questa, il perdono dei peccati in Cristo. Di questo abbiamo parlato domenica scorsa. Coloro che Dio ha redento in Cristo sono stati perdonati. Il perdono dei peccati è una benedizione elargita per grazia in virtù di Cristo. Paolo ha spiegato il prezzo necessario per il perdono dei peccati. E' grazie al sacrificio di Cristo che è possibile essere liberati, redenti in Cristo, acquistati in Cristo, in virtù di Cristo, del suo sangue, liberati dalla schiavitù del peccato e liberati dalla condanna eterna come salario del peccato. Ecco che i credenti in virtù di Cristo sono stati redenti e quindi perdonati in Cristo. Abbiamo ricevuto un perdono assoluto, completo, permanente, illimitato, infinito. Noi, Paolo dice, abbiamo la redenzione. Non dice forse potremmo averla, avercela in futuro, ma abbiamo la redenzione, una realtà presente e una realtà permanente. Siamo infatti perdonati in Cristo Gesù. Ma non solo ci mostra qual è il prezzo necessario per il perdono dei peccati, ma anche il valore infinito del perdono dei peccati. Perché dice che siamo stati redenti mediante il suo sangue e parla del perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Il sacrificio di Cristo manifesta la ricchezza della grazia di Dio essenziale per il perdono dei peccati. E' a motivo della ricchezza della grazia di Dio e poi aggiunge che è stata riversata questa grazia abbondantemente su di noi. Il nostro perdono dei peccati non è il risultato di un meccanismo mentale o il frutto delle opere dell'uomo o di un processo da parte dell'uomo per giungere a questa posizione. No, è una realtà presente e permanente in virtù di ciò che Cristo ha compiuto mediante il suo sacrificio, la sua grazia infinita, che produce un risultato specifico, un perdono infinito, illimitato. Un perdono che ha un valore incalcolabile. Ecco il primo risultato della redenzione. Ma questa mattina parleremo di un altro risultato, non solo il perdono dei peccati, non solo perdonati di tutti i nostri peccati passati, presenti, futuri e anche dalla condanna eterna, ma anche come risultato della grazia. I credenti hanno ricevuto, lo vedremo, sapienza e intelligenza spirituale. Sapienza e intelligenza spirituale, anche questa è una realtà presente. Non solo perdonati di tutti i nostri peccati, ma abbiamo ricevuto, per la grazia infinita di Dio, questa grazia abbondante, già riversata su di noi, la sapienza e l'intelligenza spirituale. Capiremo in cosa consiste questa sapienza e questa intelligenza. Infatti, al versetto 8 e 9, Paolo parla della conoscenza del mistero della volontà di Dio. La conoscenza del mistero della volontà di Dio che abbiamo in virtù di Cristo, nella nostra sapienza. La sapienza e l'intelligenza spirituale ci portano alla conoscenza, come vedremo, del mistero della volontà di Dio. La conoscenza del mistero della volontà di Dio. E poi, al versetto 10, invece, Paolo parlerà della natura, la natura del mistero della volontà di Dio. La natura del mistero della volontà di Dio. Capiremo cosa significa che credenti per grazia hanno sapienza e intelligenza. Allora, la conoscenza del mistero della volontà di Dio, ma poi ci spiegherà in cosa consiste questa conoscenza del mistero della volontà di Dio. Iniziamo con i primi due versetti, dal versetto 8 al versetto 9. La conoscenza del mistero della volontà di Dio. Dopo aver indicato Paolo in che modo è possibile la redenzione, mediante il sangue di Cristo, mediante il suo sacrificio, questo costo che Cristo ha pagato incalcolabile, e tutto ciò secondo le ricchezze della grazia di Dio, e alla luce del fatto che questa grazia è stata riversata abbondantemente su di noi, ora capiremo che non solo siamo perdonati in virtù di Cristo, alla luce di questa grazia sovrabbondante, ma i credenti hanno questa sapienza e questa intelligenza. Ecco il secondo risultato della redenzione, sapienza e intelligenza. A cosa si riferiscono questi due termini? Il primo termine, sapienza, è un termine greco tradotto sapienza, si riferisce alla conoscenza, alla comprensione delle cose spirituali, delle cose che riguardano Dio. La sapienza si riferisce alla comprensione delle cose che riguardano Dio, le cose spirituali. L'intelligenza, questo termine greco tradotto intelligenza, si riferisce all'applicazione di quella conoscenza alla vita quotidiana. Non solo quindi c'è sapienza, conoscenza delle cose spirituali, delle cose che riguardano Dio, ma anche la conoscenza di come applicare quella comprensione delle cose che riguardano Dio nella vita quotidiana. Come risultato della grazia abbondante di Dio ricevuta, non solo siamo perdonati in Cristo, ma abbiamo una conoscenza spirituale, una conoscenza intima di Dio, e una conoscenza reale delle cose che riguardano Dio e di conseguenza conosciamo come vivere in modo conforme alla volontà di Dio. I credenti, beneficiari della grazia abbondante di Dio, comprendono le cose spirituali e di conseguenza credono fermamente ad esse. Perché? Parleremo di fede al versetto 13, fra qualche domenica, ma è chiaro che per poter credere alle cose spirituali, prima è necessario comprendere le cose spirituali, le cose che riguardano Dio. Ecco, i credenti come risultato della grazia sovrabbondante hanno una conoscenza delle cose che riguardano Dio che il mondo non ha. Se andiamo infatti a leggere in Efesini 4, Efesini 4, versetto 17-18, qui Paolo scrive agli Efesini, ricorda qual è la condizione spirituale dei non credenti, e dice questo. Ascoltate quello che dice Paolo. Questo dunque io dico e attesto nel Signore. Non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata. Estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Qui parla di intelligenza ottenebrata, parla di ignoranza. Solo per la grazia di Dio siamo giunti a comprendere le cose spirituali. Perché il non credente ha questa intelligenza ottenebrata, questa ignoranza, ovvero non capisce le cose spirituali, anzi, anzi, le cose spirituali sono pazzia per i non credenti. Sono incomprensibili, anche per un religioso che si crea un Dio a sue immagini e somiglianze. Le cose spirituali bibliche sono incomprensibili. Prima Corinzi 2,14 Ma l'uomo naturale non riceve le cose dell'ospito di Dio perché esse sono pazzia per lui, non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Per l'uomo le cose spirituali sono incomprensibili. Abbiamo studiato qualche settimana fa, in Prima Corinzi 1, ricordate Paolo che riprende i Corinzi a motivo di queste divisioni, e ricorda che non erano giunti a comprendere il Vangelo grazie alla loro sapienza umana, ma era per grazia. Dio aveva scelto loro a salvezza. Versetto 27,28 Paolo chiarisce questo. Ecco, la grazia di Dio è l'unica fonte per comprendere le cose spirituali e credere a queste cose spirituali. Per l'uomo è impossibile avere una conoscenza salvifica di Dio e delle cose spirituali. È solo per la grazia di Dio che è possibile avere questa conoscenza e credere in queste cose spirituali e vivere per queste cose spirituali. A differenza del mondo che vive nelle tenebre e che considera le cose che riguardano Dio pazzia, incomprensibili. Non è possibile per l'uomo credere a queste cose e l'uomo non riesce a rinunciare a se stesso per cose che non vede. I credenti, come risultato della grazia di Dio, sono quindi sapienti e intelligenti. Non significa che non hanno più bisogno di crescere nella conoscenza di Dio. Infatti, dal versetto 15 del capitolo 1 di Fesini, Paolo descrive la sua preghiera e prega affinché possano conoscere pienamente Dio. Ma significa che il credente salvato per grazia ha quella conoscenza spirituale che è impossibile per il non credente. Questa conoscenza delle cose che riguardano Dio. Nel prossimo versetto comprenderemo più specificamente la conoscenza che i credenti hanno come risultato della grazia salvifica. I credenti hanno quindi questa sapienza, questa intelligenza e ora al versetto 9 specifica la conoscenza che hanno i credenti come risultato della grazia di Dio abbondante. Versetto 9 dice facendoci conoscere il mistero della sua volontà. Come risultato della grazia di Dio abbondante, i credenti hanno ricevuto sapienza e intelligenza e di conseguenza ora conoscono il mistero della volontà di Dio. questa frase il mistero della volontà di Dio che conosciamo conferma che la sapienza e intelligenza di cui ho appena parlato è una sapienza spirituale che riguarda cose spirituali la volontà di Dio non la conoscenza di questo mondo. Anche il più grande scienziato di questo mondo non ha questa sapienza spirituale se non è stato graziato. Ecco questa grazia è riversata sugli eletti che conduce alla conoscenza del mistero della volontà di Dio. Tutto questo chiarisce che la grazia di cui parla l'Apostolo Paolo non si riferisce ad un'offerta che Dio elargisce a tutti che può essere accettata o rifiutata perché altrimenti tutti sarebbero perdonati in Cristo dei loro peccati e tutti avrebbero la conoscenza del mistero della volontà di Dio ma questo non è una realtà. Il mondo è nelle tenebre la loro intelligenza è ottenebrata il mondo è nell'ignoranza la grazia di cui parla Paolo è una grazia che produce un risultato specifico. Se questa grazia fosse stata data a tutti come alcuni dicono purtroppo allora tutti sarebbero perdonati in Cristo e tutti avrebbero questa conoscenza ma non è così. Questa è una grazia abbondante che Dio elargisce e che produce un risultato. Questa grazia di Dio ascoltate bene ci permette di conoscere quello che non saremmo mai stati in grado di comprendere con la nostra mente naturale. Questa grazia abbondante ci permette di conoscere quello che non saremmo mai stati in grado di comprendere con la nostra mente. Una comprensione che non è intellettuale mentale ma intima spirituale personale. E' impossibile quindi conoscere il mistero della volontà di Dio senza aver ricevuto la grazia di Dio abbondante. E' impossibile. Paolo parla di questo mistero della sua volontà. Cosa si riferisce? Il termine mistero facendoci conoscere il mistero della sua volontà. In questo libro questa lettera agli Efesini Paolo parla più volte di questo mistero. In Efesini 3 versetto 3 dice come per rivelazione mi è stato fatto conoscere il mistero di cui più sopra vi ho scritto in poche parole. Leggendole potrete capire la conoscenza che io ho del mistero di Cristo. Versetto 9 e dice di manifestare a tutti quale sia il piano seguito da Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio il creatore di tutte le cose. al capitolo 5 versetto 32 usa anche qui questo termine quando dice questo mistero è grande dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Capitolo 6 versetto 19 quando dice anche per me affinché quindi pregate anche per me affinché mi sia dato di conoscere apertamente affinché mi sia dato di parlare apertamente di parlare apertamente per far conoscere con franchezza il mistero del Vangelo si parla di questo termine anche in altri brani Romani 16 in Prima Corinthians 2 altri brani e si riferisce a cosa? si riferisce al piano di redenzione realizzato in Cristo nascosto nell'età precedente ma ora rivelato per metodo lo Spirito Santo si riferisce al Vangelo il mistero rivelato consiste nel piano di salvezza che Dio ha operato per mezzo di Cristo per i Giudei e per i Greci gentili senza distinzione il Vangelo di Cristo di questo parla in questa lettera al capitolo 2 dal versetto 11 in poi riguarda la Chiesa e Cristo Efesini 5 32 riguarda il Vangelo Efesini 6 19 quindi i credenti per grazia hanno questa sapienza intelligenza e di conseguenza conoscono il mistero della volontà di Dio ovvero sono giunti a comprendere spiritualmente il Vangelo e qui dice attenzione facendoci conoscere il mistero della sua volontà questa è una conoscenza che non hanno solamente gli apostoli o alcuni credenti ma tutti coloro che Dio ha redento in Cristo tutti i credenti redenti in Cristo hanno questa conoscenza personale per la grazia di Dio questa è un'altra benedizione spirituale la conoscenza del mistero della volontà di Dio la comprensione del Vangelo in prima Corinzi in prima Corinzi capitolo 2 Paolo usa questo stesso termine mistero versetto 7 leggiamo dal versetto 6 fino al versetto 11 tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo una sapienza però non una sapienza di questo mondo né dei dominatori di questo mondo i quali stanno per essere annientati ma esponiamo la sapienza di Dio misteriosa e nascosta che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria e che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria ma come è scritto le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano a noi Dio le ha rivelate per metodo lo spirito perché lo spirito scruta ogni cosa anche le profondità di Dio infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui così nessuno conosce le cose di Dio se non lo spirito di Dio in questo brano importante l'apostolo Paolo ricorda che la sapienza di Dio è misteriosa ovvero significa non qualcosa che è misterioso come noi potremmo capire ma qualcosa di rivelato attraverso lo spirito santo a coloro che Dio ha graziato e in quel contesto ricordiamo il primo capitolo che ha ripreso i corinzi ricordando in che modo erano giunti a comprendere la sapienza di Dio e il Vangelo per grazia per grazia una sapienza nascosta misteriosa ma rivelata come per mezzo dell'opera dello spirito santo per mezzo dell'opera dello spirito santo come poi Paolo afferma nei versetti successivi in prima corinzi 2 la conoscenza di questo mistero del Vangelo è possibile mediante l'opera dello spirito santo solo coloro che ricevono lo spirito santo gli eletti a cui Dio ha riversato la sua grazia sono coloro che conoscono il Vangelo che hanno questa comprensione e che quindi credono nel Vangelo è solo per grazia è solo per grazia che è possibile credere al Vangelo la grazia di Dio è essenziale per credere non basta la sapienza dell'uomo non basta la buona volontà non basta l'onestà non basta se l'uomo può credere al Vangelo è unicamente perché Dio lo ha graziato secondo la ricchezza della sua grazia lo ha redente e giunge a comprendere le cose spirituali e a credere non è colui che è più saggio ma è colui che è graziato fratelli questa è la conoscenza che hanno i credenti in virtù della grazia di Dio qui comprendiamo ancora una volta il significato della grazia se crediamo al Vangelo se comprendiamo il Vangelo non è perché siamo più astuti rispetto a questo mondo è motivo della grazia abbondante che Dio ha riversata su di noi i credenti quindi come risultato di questa grazia hanno questa conoscenza del mistero della volontà di Dio ora Paolo prima di chiarire in cosa consiste in modo più specifico il mistero della sua volontà della volontà di Dio prima di chiarire ciò osservate quello che Paolo afferma fondamentale per quanto riguarda la conoscenza del mistero della volontà di Dio dice facendoci conoscere il mistero della sua volontà secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito letteralmente dal greco in lui secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito in lui qui dice che ci ha fatto conoscere il mistero della volontà di Dio della sua volontà secondo il disegno benevolo secondo il suo disegno benevolo la stessa frase che abbiamo visto al versetto 5 ricordate quando Paolo scrive avendoci predestinati del suo amore a essere adottati per metodo di Gesù Cristo come i suoi figli secondo il disegno benevolo secondo il disegno benevolo qui non sta parlando di un piano generale di Dio per l'intera umanità ma qui si riferisce come ben traduce il nuovo Diodati al bene placito di Dio ci ha fatto conoscere il mistero della volontà di Dio della sua volontà seconda sulla base del suo bene placito ovvero della sua volontà della sua volontà siamo giunti a conoscere questo mistero a motivo del suo buon piacere della sua buona intenzione la sovrana volontà di Dio e il suo favore immeritato sono il criterio che Dio usa per far conoscere il mistero della sua volontà lo ribadisco Dio fa conoscere il mistero della sua volontà sulla base unicamente della sua sovrana volontà sulla base del suo buon intento buon piacere chi è che conosce il Vangelo chi è che comprende spiritualmente il Vangelo e crede nel Vangelo e vive per il Vangelo rinunciando a se stesso colui che ha ricevuto questa grazia e di conseguenza questa conoscenza del Vangelo del mistero della volontà di Dio e tutto ciò secondo il buon intento di Dio gli uomini non comprendono questo mistero mediante la propria capacità intellettuale non comprendono questo mistero sulla base della loro buona volontà o sincerità no è la grazia di Dio sovrabbondante che ci conduce a questa conoscenza del mistero della sua volontà e tutto ciò non perché Dio ha risposto ad una buona azione dell'uomo ma secondo il suo proposito secondo il suo bene placito unicamente a motivo della sua volontà non grazie alla nostra decisione non grazie alla nostra volontà ma secondo il suo disegno benevolo secondo il suo buon piacere Dio ci ha fatto conoscere il mistero della sua volontà per sola grazia secondo il suo buon intento e aggiunge secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito in lui qui tradotto dentro di sé ma nel greco la frase è in lui in lui e in questo contesto si riferisce a Cristo e in virtù dell'opera e dei meriti di Cristo che siamo giunti ad avere questa conoscenza della volontà di Dio Gesù Cristo è sempre al centro di queste benedizioni benedetti in Cristo eletti in Cristo predestinati per metodi Cristo graziati in Cristo redenti in Cristo e ora la conoscenza di questo mistero della sua volontà secondo la sua volontà secondo il suo proposito è in virtù di Cristo aveva prestabilito nell'eternità in Cristo non in virtù di una nostra buona intenzione ma in virtù di Cristo aveva prestabilito di far conoscere a noi peccatori meritevoli il mistero della sua volontà questa è l'essenza della grazia di Dio non è un semplice invito non è un'offerta una possibilità che Dio concede o deve concedere a tutti ma è questa sua volontà incondizionata in virtù di Cristo di far conoscere il mistero della sua volontà sapete l'uomo dipende interamente dalla volontà di Dio per poter conoscere il Vangelo l'uomo dipende interamente da Dio per conoscere il mistero della sua volontà dipende dal suo buon piacere dal suo buon intento che ha prestabilito sulla base dell'opera di Cristo questa è la grazia di Dio incondizionato il padre che ha pianificato in Cristo l'adempimento del suo bene placito facendo conoscere il mistero della sua volontà a peccatori immeritevoli non ancora nati questo è l'amore incondizionato di Dio questo è l'amore di Dio incondizionato la sua grazia infinita Dio pianifica determina nell'eternità unicamente per i meriti di Cristo di far conoscere agli uomini quello che non avrebbero mai potuto conoscere e che non meritavano di conoscere unicamente sulla base della sua volontà incondizionata questa è la grazia di Dio questo è quello che Paolo sta scrivendo Dio il Padre ha pianificato ha determinato nell'eternità unicamente per i meriti di Cristo di far conoscere agli uomini quello che non avrebbero mai potuto conoscere e che non meritavano di conoscere e tutto ciò unicamente sulla base della sua volontà incondizionata fratelli se questa mattina comprendiamo il Vangelo conosciamo spituamente il Vangelo abbiamo rinunciato a noi stessi per amor del Vangelo e creduto nel Vangelo e perché Dio ci ha graziati in virtù di Cristo nell'eternità non c'è la nostra azione ma c'è la sua azione incondizionata come sappiamo il Vangelo è pazia per gli uomini anche per il religioso che sembra credere ma non abbandona la sua vita per l'amore di Cristo non è disposto a perdere la sua vita per l'amore di Cristo non è disposto a morire per l'amore di Cristo non ha una fede salvifica per l'uomo è pazia il Vangelo è incomprensibile ma per chi è stato graziato il Vangelo questo mistero dalla volontà di Dio è comprensibile e infatti parlerà di fede al versetto 13 la fede è la risposta al Vangelo udito ma chi può credere chi crede è perché ha compreso il Vangelo ha compreso le cose spirituali e la Bibbia rivela in che modo attraverso questa grazia che Dio ha riversato su di noi abbondantemente tutto ciò secondo il suo buon intento prestabilito in virtù dell'opera di Cristo infatti come Paolo rivela in Prima Corinzi ricordate quando termina parlando dell'opera sovrana di Dio Dio che ha scelto i Corinzi e salvezza poi dice ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù che da Dio è stato fatto per noi sapienza giustizia santificazione redenzione sapienza non è la nostra sapienza in mezzo per giungere alla conoscenza di questo mistero ma è Cristo la sapienza è Lui è in Lui che noi abbiamo questa comprensione della conoscenza della volontà di Dio la conoscenza del mistero della sua volontà abbiamo visto quindi prima cosa la conoscenza del mistero della volontà di Dio che abbiamo come risultato della sapienza dell'intelligenza spirituale ma ora passiamo al versetto 10 non solo la conoscenza del mistero della volontà di Dio ma ora la natura del mistero della volontà di Dio abbiamo capito a cosa si riferisce questo mistero in modo più generico al Vangelo al piano di redenzione ma qui in questo versetto Paolo va nello specifico per spiegarci in cosa consiste il mistero della volontà di Dio a cosa corrisponde a cosa corrisponde versetto 10 vorrei leggerlo traducendolo in modo più letterale dal testo greco versetto 10 Paolo scrive per unire per unire nella dispensazione del compimento dei tempi tutte le cose in Cristo le cose nel cielo e le cose sulla terra per unire nella dispensazione del compimento dei tempi tutte le cose in Cristo le cose in cielo e le cose sulla terra la frase tradotta in questo modo raccogliere sotto un solo capo in Cristo raccogliere sotto un solo capo traduce un solo termine greco nell'originale che si riferisce a questo riunire riassumere ricapitolare questo è il termine greco riunire riassumere riassumere e ricapitolare e in questo versetto si riferisce a unire tutte le cose unire tutte le cose sotto l'unica e la sola autorità quella di Cristo unire dice tutte le cose sotto l'unica e sola autorità ovvero quella di Cristo ma a cosa si riferisce però questo unire tutte le cose e quando si adempierà tutto ciò per capire quando si adempierà è necessario comprendere il significato di questa frase o unire tutte le cose sotto un solo capo in Cristo a cosa si riferisce comprendere il significato di questa frase dobbiamo leggere prima alcuni versetti in questa epistola agli Efesini alcuni versetti al capitolo 1 versetto 20 Paolo scrive questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo Cristo quindi risotto dai morti qual è il risultato versetto 21 al di sopra di ogni principato autorità potenza e signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro qui rivela che Cristo è stato dai morti risuscitato e ora è alla destra nel cielo e di conseguenza come risultato è al di sopra di ogni principato autorità potenza e signoria qui si riferisce alle creature angeliche Cristo ha questa suprema autorità sulle creature angeliche e su ogni altro nome dice che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro Cristo risotto dai morti ha la supremazia su tutto versetto 22 aggiunge ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato come capo per capo supremo alla chiesa non solo a questa supremazia su ogni cosa ma è capo il capo della chiesa ogni cosa sottomessa alla sua autorità come risultato i credenti sono ora vivificati con Cristo e Fesini 2 5 non camminano più secondo questo mondo secondo Satana e Fesini 2 2 ma in Cristo hanno la potenza per resistere contro le forze spirituali e Fesini 6 10 12 quando Paolo parla di questo combattimento spirituale Cristo ha questa autorità su ogni cosa noi siamo sottomessi la sua autorità abbiamo la forza per affrontare le forze spirituali ma nonostante Gesù ha questa autorità nonostante è capo della chiesa e ha questa autorità su ogni cosa sappiamo che Satana sta ancora operando ribellandosi a Dio lo vediamo questo in Fesini 2 2 e così anche in Fesini 6 dal versetto 11 al 13 Satana che ora si ribella a Dio e ai credenti in Cristo c'è una battaglia spirituale non solo Satana è all'opera ma anche i non credenti continuano a ribellarsi in Fesini 2 1 fino al versetto 3 sia i non credenti sono ribelli e così anche il diavolo e i demoni quindi tornando in Fesini 1 10 quando parla di unire tutte le cose sotto un solo capo in Cristo a cosa si riferisce? sappiamo che al presente Cristo è già questa autorità su ogni cosa ma Satana ancora ribelle i non credenti camminano nella disobbedienza Paolo per esempio è prigioniero a motivo della persecuzione mentre scrive questa lettera e Fesini 6 20 rivela ciò a cosa si riferisce quindi quando parla di unire sotto un solo capo tutte le cose in Cristo beh in questo versetto Paolo rivela che tutte le cose qui dice tanto quelle che sono nel cielo quanto quelle che sono sulla terra tutte le cose nel cielo e sulla terra ovvero tutto anche il creato le cose animate e inanimate non solo i credenti ma anche il creato tutte le cose e così anche i non credenti saranno sottomessi a Cristo in Filippesi 2 9 Paolo scrive perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato a Gesù il nome che è al di sopra di ogni nome affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua confesse che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre anche i non credenti sottomessi a Cristo alla sua signoria in Prima Corinzi 15 che voglio leggere un attimino in Prima Corinzi 15 Prima Corinzi 15 quando parla della risurrezione di Cristo versetto 22 dice poiché come tutti muoiono in Adamo così anche in Cristo saranno tutti vivificati ma ciascuno al suo turno Cristo la primizia poi quelli che sono di Cristo alla sua venuta poi verrà la fine quando consegnerà il regno nelle mani di Dio Padre dopo che avrà ridotto a nulla ogni principato ogni potestà e ogni potenza poiché bisogna che egli regni finché abbia messo tutti i suoi nemici sotto i suoi piedi l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà la morte difatti Dio ha posto ogni cosa sotto i suoi piedi ma quando dice che ogni cosa gli è sottoposta è chiaro che colui che gli ha sottoposto ogni cosa ne è eccettuato quando ogni cosa gli sarà sottoposta allora anche il figlio stesso sarà sottoposto a colui che gli ha dato che gli ha sottoposto ogni cosa affinché Dio sia tutto in tutti qui rivela che Gesù consegnerà il regno al Padre dopo aver ridotto a nulla ogni principato dopo aver messo sotto i suoi piedi i suoi nemici dopo aver distrutto la morte nonostante Gesù al presente sia già supremo sulla Chiesa e su ogni cosa il mondo attualmente è ancora diviso è ancora corrotto qui sta parlando di ciò che accadrà in futuro riguarda qualcosa che accadrà in futuro quando Cristo tornerà e tutte le cose inanimate e animate saranno completamente riunite sottomesse alla sua Signoria qui parla della dispensazione del compimento dei tempi parla del completamento della storia di redenzione la fine dei tempi Cristo tornerà per regnare per mille anni e dopo di che ci sarà il nuovo cielo la nuova terra il regno eterno qui sta parlando della futura piena redenzione la nuova creazione quando Cristo tornerà regnerà sulla terra questa terra verrà rinnovata ma poi ci sarà questo nuovo cielo nuova terra in Romani 8 la stessa cosa questo è quello che Paolo rivela ai Romani Gesù con la sua morte quindi e la sua risurrezione ha già trionfato su Satana ma è in futuro quando condannerà in modo definitivo Satana i demoni e tutti gli increduli Apocalisse 20 dal versetto 10 al 15 è proprio al fine dei tempi nella dispensazione del completamento dei tempi in futuro Cristo tornerà e tutte le cose saranno sottomesse a Cristo senza nessun escluso non ci sarà più divisione né corruzione nel mondo e nell'universo ma completa armonia sotto Cristo questa è la conoscenza che hanno i credenti salvati per grazia i credenti salvati per grazia conoscono quello che è il futuro glorioso il mistero della volontà di Dio conoscono il Vangelo e quale risultato che tutti un giorno saranno sottomessi a Cristo chi condannato per l'eternità e chi ha la sua presenza e per la grazia di Dio che abbiamo questa conoscenza e che abbiamo una speranza gloriosa che il mondo non ha noi conosciamo ciò che accadrà che per il mondo è pazia è una irrealtà ma per noi ciò che non si vede in realtà perché perché graziati da Dio e di conseguenza viviamo in questa gioiosa e vittoriosa aspettativa del futuro glorioso il mondo ha incertezza il mondo ha paura il mondo vive un futuro privo di speranza non ha alcuna certezza il mondo l'unica gioia che ha il mondo è al presente una gioia temporanea questo è il loro paradiso ma noi in Cristo per grazia immeritata abbiamo questa speranza gloriosa il nuovo cielo e la nuova terra di cui abbiamo parlato domenica scorsa i credenti godono al presente di una gioia che è un'anticipazione del loro glorioso futuro infatti al presente beneficiamo della Signoria di Cristo Efesini 1.19 1.22 della sua potenza 1.19 della protezione e vittoria sulle forze spirituali la certezza della futura e completa redenzione questa è la conoscenza spirituale che abbiamo per grazia per grazia un futuro glorioso questa è la conoscenza che abbiamo in virtù della grazia di Dio e il mistero della sua volontà la conoscenza del Vangelo e coloro che credono nel Vangelo sottomesso a Cristo vivono con questa aspettativa questo futuro glorioso Apocalisse 21.22 questo nuovo cielo e nuova terra questa è la certezza che hanno i credenti questa è la loro anticipazione questa è la loro vita con questa prospettiva completamente diversa rispetto al mondo tutto ciò per la grazia di Dio in questi versetti ha rivelato qual è il frutto della nostra redenzione in Cristo redenti in Cristo in virtù del sacrificio di Cristo Gesù non solo perdonati di tutti i nostri peccati ma abbiamo la sapienza e l'intelligenza spirituale la sapienza e l'intelligenza ovvero la conoscenza del mistero della volontà di Dio conosciamo la volontà di Dio quello che accadrà in futuro conosciamo il Vangelo e crediamo nel Vangelo come risultato della grazia di Dio è per grazia che abbiamo questa conoscenza è per grazia che abbiamo la conoscenza del mistero della sua volontà una conoscenza possibile unicamente per la grazia secondo il bene placido di Dio in virtù di Cristo Gesù redenti in Cristo Gesù e di conseguenza perdonati di tutti i nostri peccati e ora redenti in Cristo Gesù e di conseguenza abbiamo la conoscenza del mistero della volontà di Dio e abbiamo capito in cosa consiste questo mistero consiste nella conoscenza del piano di redenzione la salvezza possibile in virtù di Cristo di conseguenza il glorioso futuro di chi è in Cristo una conoscenza che non può avere questo mondo senza la grazia di Dio nel presente noi siamo sottomessi a Cristo come credenti ma il mondo non è sottomesso e nemmeno Satana e nemmeno creato che ancora sotto la maledizione del peccato della corruzione ma in futuro ogni cosa tutte le cose sottomesse a Cristo il regno eterno questo è il nostro futuro per il mondo e pazzie fratelli ma noi viviamo in vista di ciò questa è una benedizione spirituale che abbiamo in virtù di Cristo è una conoscenza una sapienza che abbiamo a motivo di questa grazia che Dio ha riversato su di noi abbondantemente viviamo quindi la nostra vita in attesa di questo futuro glorioso a differenza dal mondo che vive nell'incertezza nella paura questo mondo che ha una gioia temporanea questo mondo che è attaccato a questa vita e che ha questa ignoranza spirituale non sa ciò che accadrà e non vuole abbandonare questo suo attaccamento non vuole rinunciare a se stesso ma il credente ha rinunciato ha perso la sua vita e l'ha trovata cosa ha trovato? il nuovo cielo e la nuova terra questo futuro glorioso questa speranza che hanno i credenti cosa scriverà in questo capitolo al versetto 18 e gli illumini gli occhi del vostro cuore il padre affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati il credente ha questa speranza come frutto della grazia abbondante di Dio perché ha questa conoscenza spirituale del mistero della sua volontà non è grazie quindi a una nostra intuizione non è grazie ad una comprensione intellettuale non è grazie ad una nostra decisione non è grazie alla nostra onestà e sincerità e grazie alla misericordia di Dio infinita chi ha questa conoscenza è stato graziato da Dio questo dice il testo biblico questa è la grazia che comprendiamo nella scrittura pensate a quello che Paolo scriverà al capitolo 6 questa battaglia spirituale dal versetto 10 in poi come affrontare la battaglia spirituale fratelli come affrontarla siamo già vittoriosi in Cristo attendiamo questo futuro glorioso e questo cambia la prospettiva del nostro combattimento la grazia di Dio se stiamo fermi in essa ci permette di affrontare il combattimento spirituale perché siamo già vittoriosi in Cristo Gesù non viviamo la battaglia come dei perdenti guardando noi stessi ma guardiamo la grazia di Dio sufficiente potente già elargita infinitamente e quando consideriamo questa grazia allora affronteremo la lotta spirituale il combattimento spirituale o il cammino di santificazione in questo modo sapendo che possiamo trionfare sul peccato il motivo di questa grazia di Dio abbondante vorrei terminare leggendo alcuni versetti che abbiamo letto e studiato qualche mese fa in prima Pietro perché Pietro scrive qualcosa di simile come introduzione di questa lettra scritta ai credenti che stavano soffrendo per la loro fete stavano soffrendo e sentite quello che scrive Pietro la grazia di cui stiamo parlando ci motiva ad adorare il Signore alla lode e Pietro anche lui loda il Signore e parla di questa speranza che abbiamo di questa eredità di cui parleremo la prossima domenica nei Fesini 1.11.12 in un contesto specifico di sofferenza prima Pietro 1.3 fino al versetto 9 Pietro scrive benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti per una eredità incorruttibile senza macchia inalterabile essa è conservata in cielo per voi che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi e aggiunge perciò voi esultate anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove affinché la vostra fede che viene messa alla prova che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco sia motivo di lode di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo benché non l'abbiate visto voi lo amate credendo in Lui benché ora non lo vediate voi esultate di gioia ineffabile e gloriosa ottenendo il fine della fede la salvezza delle anime come poter gioire in mezzo alle prove la grazia di Dio la grazia di Dio che ci ha portati a questa speranza gloriosa ovvero la certezza di ciò che non si vede ma di cui siamo certi perché abbiamo una conoscenza grazie all'opera dello Spirito Santo e alla grazia di Dio ecco come gioire ecco come lodare il Signore ecco come può esortare i credenti a gioire in mezzo alle prove perché a motivo di questa speranza di questa nostra eredità che Dio conserva per noi è una certezza che riguarda noi e quindi di conseguenza il presente cambia fratelli la grazia di Dio di cui Paolo ci sta parlando cambia il nostro modo di vivere il presente perché viviamo ogni circostanza in vista di questo glorioso futuro una conoscenza che abbiamo per grazia e che ci motiva a lodare Dio e a perseverare per fede in vista di questo glorioso futuro di questa certezza e di questa conoscenza che abbiamo in virtù della grazia abbondante di Dio che Egli ha riversata su di noi abbondantemente di Dio 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 di Dio